ciao ragazzi siamo al corsico course meeting perché siamo qui perché stasera presentiamo il via ufficiale il trainer dei low stars non vediamo l'ora c'è fabio con noi dei low stars pazzesco come sempre si sta riempendo ragazzi e la cosa bella sapete qual è che ognuno di questi ragazzi qua prima di venire qui si sarà dedicato almeno due ore a pulire la propria macchina aspetta qualsiasi go per amore ci siamo a dire con il giro di video e al di 2 e mezzo e ci vediamo il trailer dei low stars è un'altra cosa ciao ragazzi al di 2 e mezzo e adesso vogliamo vedere il trailer dei low stars è una tassa portatile prova prova mettiamo il trailer dei low stars non so se conosci low stars eh spazzo nel numero sono giù con un paio di macchina e stasera presentiamo il trailer dei low stars rock n roll ciao ragazzi ciao ragazzi ciao 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 bia c'è Donne il bigliettino Donne il bigliettino Yes sir Ciao ragazzi Yeah Dove di sera Yeah Everything Is sponsored by Suzuki My Suzuki Giovedì sera, sarà online? Sì Buono, sta di meta Ragazzi queste cose succedono sempre di fretta Sono arrivato alle 8 Ho montato, è arrivata la gente Sono arrivati loro Sembra che la gente abbia apprezzato Grazie ancora Corsico Cars Meeting Grazie davvero ragazzi Grazie Low Stars L'1-2 giugno L'1-2 di giugno A Montagnana A Bio Club di Montagnana Ragazzi grazie per essere rimasti con noi fino da adesso E ci vediamo domenica con il blog numero 11 E salutiamo i ragazzi Ciao